Attesa per domani la commissione di pubblico spettacolo che cercherà di definire e rispondere alle domande riguardo al sequestro dello Chalet del Mar, il locale estivo sulla spiaggia dell'Arzilla, punto di riferimento per i giovani e la movida di Fano e non solo. Ad esprimere rammarico per la vicenda anche il sindaco Massimo Seri che chiede chiarezza riguardo all'accaduto. Parliamo di un'area, di una zona che è diventato punto di riferimento per i giovani, per la movida dei giovani, quindi è un aspetto che non va sottovalutato perché diventa importante per una città come la nostra, una città viva, una città anche turistica che deve saper dare delle risposte anche ai giovani. Ovviamente la questione sollevata è una questione importante, io capisco che vanno trovati giusti equilibri quando ci sono luoghi deputati per lo svago e per una risposta a quelle che sono le esigenze dei giovani con anche chi vive nella zona limitrafe. Però bisogna tener conto anche del valore che esso ha. Non possiamo permetterci che certi luoghi subiscano degli stop perché poi significa non essere in grado di trattenere i giovani. Io dico anche attrarre i giovani nel nostro territorio, poi ci lamentiamo se vanno a scegliere proposte e offerte da altre parti. Poi c'è anche un aspetto che guarda la città nel suo insieme anche come ricadute economiche perché comunque è un comparto importante e un sindaco deve tener conto anche di questi aspetti. I sigilli sono stati messi nella notte tra sabato e domenica quando centinaia di ragazze stavano lasciando il locale dopo una serata passata in allegria tra amici. Dopo un controllo da prima in borghese di polizia, carabinieri e finanza, verso le 3.30 la notifica di sequestro perché secondo gli inquirenti il gestore è autorizzato solo per l'attività di piano bar e non di discoteca. Intanto nelle prossime ore si prospetta il ricorso al Tribunale del Riesame per la revoca del sequestro.